Ergastolo per tre dei quattro imputati accusati dell'abbattimento del Boeing 777, volo MH17 della Malaysia Airlines, precipitato nella campagna di Pervo Maishkin, l'Ucraina orientale, il 17 luglio 2014. I giudici in un'aula di tribunale vicino all'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam hanno condannato all'ergastolo i russi Igor Gyrkin e Sergei Dubinsky e l'ucraino Leonid Karchenko, mentre il russo Oleg Pulatov è stato assolto per insufficienza di prove. I primi tre processati in contumacia sono stati giudicati colpevoli di aver svolto un ruolo chiave nel lancio del missile Terraria Buk, utilizzato per abbattere l'aereo, sul quale viaggiavano 298 persone più l'equipaggio. Mosca, che ha rifiutato di consegnare gli imputati, ha definito la sentenza politica. Posso dire che esamineremo questa decisione perché ogni sfumatura è importante. Dopo aver studiato il documento legale saremo pronti a commentarlo, ha dichiarato il vice direttore del Dipartimento Informazione Stampa del Ministero degli Esteri Russo. Il volo MH17 della Malaysia Airlines viaggiava sulla rotta Amsterdam-Kuala Lumpur. La maggior parte delle vittime, 196, era di nazionalità olandese, ma tra le altre vittime ci furono anche 43 malesi e 38 australiani. Dopo otto anni di indagini, analisi dei relitti del Boeing e del missile di fabbricazione russa e intercettazioni telefoniche tra i sospettati, il Tribunale ha concluso che le azioni dei separatisti filorussi del Donbass, considerati responsabili, erano concordate con Mosca.